AUGURI KENDAL! Guardate dove mi trovo, questo è il mio balconcino, è il mio piccolo balconcino, cosa voglio fare? Voglio comprare un sacco di palloncini d'acqua e tirarglieli addosso, è uno scherzo molto semplice, però visto che è estate penso che se lo meriti Solamente che io non ho tutti quei palloncini d'acqua in casa, quindi dovremmo andarli a comprare Mi raccomando, shh, voi state zitti, non dite nulla e quindi andiamo a comprarli, dai però Intanto mi faccio una bella dormitina qua Mmm, che bella dormitina Io spero che non si arrabbi veramente per questo scherzo perché Veramente, sarà molto Ma che fai? È un vlog Ah, ok Un vlog San Marino, guarda Eh? Sì, sì, adesso andiamo sul San Marino Ok Comunque ragazzi, io da lì gli lancerò tutti i palloncini, mi inventerò una scusa per farlo andare lì o qua, non so, magari devo trovare un punto per la telecamera perché devo trovare una ripresa fantastica per questo scherzo perché non posso fallire Non posso fallire assolutamente Ok ragazzi eccoci qua a casa, ho preparato tutti i materiali che ci serviranno per questo scherzo perché lui l'altra volta ci ha fatto quello scherzo orribile del mio mondo, adesso io mi voglio vendicare Allora, sto già facendo un pochettino di palloncini, come potete vedere, sto utilizzando questa pompetta d'acqua, lo so, ci vuole veramente tanto, guardate quanti sono, sono coloratissimi, avrà una fine colorata, arcobaleno Quindi allora, io riempirò tutta questa vasca di palloncini, lo so, ci metterò una vita, ecco, io devo infilare questo palloncino qua, in questa pompettina, è un pochettino da quattro soldi Faccio così e devo gonfiare il mio palloncino, ecco, adesso non funziona, ci metterò una vita, speriamo che questo scherzo funzioni ragazzi perché veramente mi sto impegnando un sacco Kendall comunque si è uscito per fare l'allenamento, quindi tornerà fra qualche ora sicuramente, quindi io ho tutto il tempo per preparare la sua fine Gonfiati palloncino, gonfiati, si si gonfia un bel po' piano però Ho preso dei palloncini tarotti, comunque meglio, si romperanno prima Un bellodino ed è pronto, il nostro palloncino, bene, io direi di iniziare a metterli tutti qua dentro, qua, qua, tutti colorati, belli che siete Ecco qua, ragazzi ci metterò un sacco però, wow Oh mio dio ragazzi, guardate, guardate quanti ne abbiamo fatti, abbiamo riempito la vasca Adesso Kendall dovrebbe arrivare da un momento all'altro, quindi io mi metto subito in posizione, forza Ok ragazzi, ci siamo spostati fuori, ho messo i palloncini d'acqua qua, là ho messo una telecamera nascosta che adesso non si vede E per attirare l'attenzione di Kendall là ho buttato una maglietta, sarà l'esca per la trappola, adesso aspettiamo che arrivi Kendall, ehi, ehi sto facendo un vlog, vuoi venire? Ciao, ciao, ti sto riprendendo, com'è andato l'allenamento? Insomma, sono stanco, fa caldo Dai, fa caldo, vieni qua Ascolta, mi è cascata una maglietta, non è che me la puoi prendere? Sì arrivo Stavo facendo i panni Apri il portone? Eh, è aperto, prima aprendimela però eh Ok, ok, andiamo, 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 andiamo Ok, siamo in posizione ragazzi, ci siamo Sta andando sotto Auguri chiamo Ma sei scemo? Non sei in posto, no, allora, avevi caldo? Sì ma guarda, prendi qua No, riprenditelo No, ma sei scemo? Ok che fa caldo ma Guarda qua Sei tutto bagnato? Eh no Oh E ora le scarpe? Ah, le scarpe Quindi questo è il no A questo ti servivano i palloncini? Eh, sì No, cosa fai? È la mia maglia La mia maglia Ehi Sono una spugna, c'ho le scarpe che mi mando Dai, vieni qua, io ti asciugo Che ti sei bagnata la maglietta? Ti sta bene il caro Sì, chi è? Posta Chi è? Dai, vieni Non posso, ho le scarpe france Fa vedere Oh Sponzo Chiudi, chiudi la porta, grazie Aspetta, mi prende Ragazzi, vi è piaciuto questo scherzo? Se questo scherzo vi è piaciuto lasciate un bel like Vero che ha lasciato un bel like Lasciate anche un commentino magari su che cosa la prossima volta posso fargli uno scherzo? Allora, quella mia doccia Ciao Kendall Ciao Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi